Seduta di Consiglio Comunale andata deserta per motivi prettamente professionali, così come ha detto il Sindaco Bottone nella nostra intervista. Si sollevano le opposizioni denunciando mancanza di confronto, mancanza di una maggioranza qualificata e mancanza di numeri che avrebbero dovuto garantire l'approvazione della salvaguardia degli equilibri. In una nota i rappresentanti di Fratelli d'Italia lamentano l'immobilismo in cui versa la città e il mancato desiderio di confrontarsi con le opposizioni sui reali problemi esistenti a Pagani. Il Sindaco non riesce a governare con una maggioranza ormai solo numerica. Si perde tempo e si prende tempo affinché questo PD faccia questo passaggio in maggioranza. Non se ne può più. Non parliamo dell'ultimo Consiglio Comunale. Ci sono state delle accuse così violente che non avevano nulla a che vedere con la politica. Ormai siamo scesi proprio in basso. Da parte del Sindaco c'è stata proprio una caduta di stile che non va bene per il nostro Paese. Siamo in una situazione di staldo, non si muove nulla. Si doveva parlare anche del ciclo di rifiuti. Un argomento oggi importantissimo per il nostro Paese. Ormai le strade sono sporche. Avevo detto al Sindaco che sarei rimasta al suo fianco perché ci deve essere una collaborazione fattiva, un'azione politica forte al di là dei colori politici. E poi innanzitutto ci deve essere una campagna educativa. Non c'è ciclo che tenga senza campagna educativa. Ci sono ancora oggi cittadini che lasciano a qualsiasi ora del giorno della notte rifiuti ovunque. È un periodo di turnazioni, di ferie e quindi chi è il dipendente pubblico non riusciva a liberarsi. E allora abbiamo optato di farlo lunedì e in modo tale da poter avere una presenza di tutti. Non c'è niente di previsto? No, non ce ne sono i motivi per il semplice fatto che è un consiglio comunale importante, è un consiglio comunale dove si va a provare una parte di consuntivo, si va a provare la salvaguardia, abbiamo qualche debito fuori bilancio, quindi sono cose normalissime dove un consigliere comunale non mette in campo la politica in queste cose, si mettono in campo gli atteggiamenti amministrativi. Grazie a tutti.